Un cordiale saluto a tutti. Avrei preferito parlarvi delle reali emergenze che oggi attanagliano il Paese, ma ahimè vi devo parlare di cose che sono state calendarizzate per il programma del Parlamento per l'Aula nel mese di luglio e che sono prettamente ideologiche, ma che dobbiamo affrontare proprio perché intervengono su temi eticamente sensibili. Si tratta di tre proposte di legge che verranno abbinate, una che vede come primo firmatario l'onorevole Zan, un'altra che vede come prima firmatario l'onorevole Boldrini e una terza che vede come primo firmatario l'onorevole Scalfarotto. Queste tre proposte intervengono in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere e di fatto tendono a estendere la loro portata sanzionatoria. Io mi affronto il disegnese anche quello più gettonato. Che cosa vogliono modificare in sostanza? Che cosa vogliono inserire? Con riferimento al 604 bis, la prima delle due norme del codice penale che intendono modificare, se la proposta Zan dovesse diventare legge, verranno puniti non solo gli atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, come già accade oggi, ma anche, ecco la novità, gli atti di violenza compiuti per motivi connessi all'orientamento sessuale, omosessualità e all'identità di genere transessualità. Parimenti con la seconda norma che si intende da parte loro modificare l'articolo 604 ter del codice penale che prevede delle aggravanti per alcuni reati se commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, raziale, nazionale o religioso, se la proposta Zan dovesse diventare legge, a queste finalità si aggiungeranno le finalità omofobiche e transfobiche. Faccio un esempio concreto per darvi l'idea. Se dovesse una volta diventata legge la proposta Zan, se io dovessi dire che considero l'omosessualità contro natura, rischierei di subire una reclusione fino a un anno e mezzo oppure di vedermi erogato una sanzione pecuniaria fino a 6.000 euro. Per quanto riguarda le aggravanti, altro esempio, se dovessi dire che Caio, che so essere notoriamente omosessuale, ha una relazione omosessuale e non condividessi, che non condivido la sua relazione omosessuale, sarebbe reato di diffamazione con l'aggravante omofobica. Tra parentesi, se lui dicesse a me che non condivido la mia relazione eterosessuale non accadrebbe nulla, quindi già capite la discriminazione. I proponenti asseriscono di voler presentare queste loro proposte di modifica dei due articoli che ho ricordato, perché intendono colmare un vuoto legislativo, ma non c'è nessuna lacuna normativa nell'ordinamento, perché tutti i soggetti, comprese le persone omosessuali o transessuali, sono oggi tutelati al pari di tutti gli altri cittadini nei confronti dei delitti perché possono perpetrarsi contro la persona. Penso ai delitti contro la vita, ai delitti contro l'onore, per esempio la diffamazione, dei delitti contro l'incolumbità personale o la libertà personale, per cui non sussiste nel nostro ordinamento alcuna discriminazione nei confronti delle persone omosessuali e transessuali. Per cui prevedere un di più di tutela a favore loro, come prevedono Zan e i suoi colleghi, vuol dire discriminare altri soggetti, penso a soggetti socialmente vulnerabili come possono essere gli anziani, le persone diversamente abili, i disoccupati, gli obesi eccetera, quindi già questo voi capite concreterebbe una violazione del principio d'egualianza. Allora non possiamo che dedurne che non si tratta di uno strumento di tutela, ma piuttosto, ahimè, di uno strumento di repressione del dissenso, che diventa paradigma di una svolta autoritaria che si vuole imprimere all'ordinamento. E cerco di dimostrarvi questa affermazione, partendo dalla relazione che accompagna il disegno di legge, in cui a un certo punto si asserisce un aumento esponenziale delle violenze verso persone omosessuali e transessuali. Il tutto fra l'altro esposto con toni ingiustificatamente allarmistici e inutilmente enfatici e, quel che è peggio, senza alcun dato statistico a suffragio delle proprie ragioni. Anzi, l'unico dato statistico affidabile in atto è quello del OSCAD, acronimo che sta per Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori, istituito presso il Ministero degli Interni, il quale nella sua relazione dice che in otto anni l'insieme di presunte, sottolineo presunte, condotte illecite con intenti di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale o di identità di genere, sono 212, in otto anni 212. Emergenza sociale? Assolutamente no. Vuoi capire che questo è il vecchio trucco, cioè inventare una finta emergenza per giustificare la svolta repressiva. Quindi la modifica che propongono Zane e colleghi di fatto introduce un reato di opinione basato su due pilastri. Primo pilastro, la vaghezza del concetto di discriminazione. Cosa si intende per discriminazione a danno di persone omosessuali o transessuali? Vi ho fatto già prima degli esempi, voi capite che questo diventa veramente un allargamento del perimetro della fattispecie penale, in modo che addirittura il perimetro della fattispecie penale non è più fissato dal legislatore come richiede un ordinamento democratico fondato sullo Stato di diritto, ma è invece demandato alla dischiazionalità dell'interprete. Può essere il magistrato di turno oppure l'amministrazione, eccetera. Secondo pilastro che testimonia che intendono restituire un reato di opinione è la violazione del principio di tassatività della fattispecie. Che cosa vuol dire? Vuol dire un duplice dovere. Per il legislatore il dovere di stabilire tassativamente ciò che è ciò che non è penalmente vietato. Per l'interprete il divieto di applicare la norma a casi che essa espressamente non prevede. Capite che questo è garanzia dell'egualianza tra tutti i cittadini. Quindi la proposta di legge Zan profila davvero un crinale pericoloso per le libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione. Quali sono le conseguenze? La violazione prima di tutto della libertà di espressione del pensiero, di cui è l'articolo 21 della Costituzione, e altrettanta frontale violazione del principio, che ho appena ricordato, di legalità tassatività in materia penale, di cui è l'articolo 25 della Costituzione. Per quanto riguarda la libertà di espressione del pensiero, è unanimemente riconosciuto che la garanzia, cioè il carattere autenticamente democratico di un ordinamento, debba andare di pari passo con la libertà di manifestazione del pensiero. Non solo, ma autorevolissimi studiosi, quali il Zaccaria, i Capezzi, il Barile, dicono che questa libertà di manifestazione del pensiero ha una notevole ampiezza, perché può essere diretta non solo all'intelletto e alla ragione del destinatario, ma anche a determinare nel destinatario uno stato emotivo o passionale. Aggiungo un'altra conseguenza particolarmente rilevante e delicatissima, importante per noi che militiamo in certe realtà del volontariato. Qualora qualche interprete desse un'interpretazione del tutto irragionevole, incostituzionale, potrebbero addirittura vedersi a rischio le associazioni pro-life e pro-family. E questo è in forza della proposta introduzione, contenuta fra l'altro nel proposta ZAN, della messa fuori legge di enti con finalità discriminatorie fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Vi do lettura del passaggio. Attualmente la norma del 604 bis al secondo comma dice è bietata. Ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente fra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ebbene, ZAN e colleghi propongono di aggiungere oppure fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Qualora domani l'interprete, qualora diventasse legge, questa proposta ZAN ritenesse attività discriminatoria fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, per esempio l'attività di qualche realtà pro-life o pro-family, questo vorrebbe dire la messa fuori legge di queste realtà. Per cui conclusivamente la proposta di legge ZAN è incostituzionale per violazione, fra l'altro del principio di legalità tassatività, di quell'articolo 25 della Costituzione, del principio di libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e, devo dire, è assolutamente liberticida, perché tende a punire un modo di pensare e ancora prima un modo di essere. E questo, devo dire, è piuttosto curioso da parte di forze politiche, quelle proponenti, queste proposte di legge, che da sempre hanno fatto della libertà la propria bandiera. Quindi una proposta di legge, quella ZAN e colleghi, intesa come strumento per adeguare la legge al sentire giuridico dei detentori del potere. Una proposta di legge ideologica che è ai piedi d'argilla e comunque che ci induce a riprendere davvero la nostra collena e il nostro lavoro con forza, continuando con coraggio e con umile audacia e speranza per una battaglia che è una battaglia di civiltà e di vera libertà. Un cordiale saluto.